Musica Ragazzi sicuramente vi ricorderete di quel video che vi ho portato tempo fa su Call of Duty Ghost Nel quale giocavo la finale di un torneo con più di 100€ in palio Finale che poi a malincuore in terza mappa abbiamo perso sul 6-5 Una partita che non mi dimenticherò mai che vi giuro mi ha fatto rosicare tantissimo Bene quella che vi porto oggi è la copia di quella partita Si tratta di un torneo simile dello stesso sito con 125$ in palio E quella che vi porto è la terza mappa della finalissima Noi contro due francesi Due francesi veramente forti che avevano eliminato un mio amico poco prima Che anche lui ha definito veramente molto molto bravi Insomma due che ci sanno fare ecco Vi faccio un piccolo recap di questa finale Prima mappa vinta da noi, le abbiamo spaccati Seconda mappa Octane Abbiamo perso purtroppo 6-5 A un passo proprio, a un round dalla vittoria di tutto il torneo E questa che state per vedere è appunto la terza e ultima mappa Warhawk Proprio come l'ultima finale E purtroppo anche in questa finale abbiamo perso Non vi dico quanto guardatevela Ma in tutta sincerità ve lo dico proprio sinceramente Mi sento di dirvi che la colpa è stata mia È stata mia per colpa di due round che ho perso in maniera stupidissima E che durante la partita vi farò notare E appunto vi evidenzierò per farvi capire quali sono stati i miei errori Errori veramente facilmente evitabili che ci verbero portati al 100% Potrei scommettere tutto quello che ho alla vittoria di questo torneo Vi lascio la partita, guardatevela tutta ragazzi Scusatemi se parleremo poco ma innanzitutto eravamo stratesi Seconda cosa erano le 2 di notte e poi niente sti gazzi, buona visione Se mi attacco che è L'Ambi Vuoi che ti guardi il flank? Sì 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 se stai nella macchina bruciata va bene Tanto io una kill davanti me la prenda meno che non mi arriva un Fulmine da Gesù Vai Uno water Domani Becca 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 Andiamo in là andiamo in là Aspetterò là aspetterò là Tanto tu arriva quella arriva arriva crede a me Ma se vuoi venire adesso va bene Ha mirato lui Io Piazzo E tu Vai 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 E' dentro l'ambulanza mi sa No no niente Vai 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 ce lo faccio No no ho flashato Guarda il back là Dai Guarda il back è tutto davanti Dietro dietro c'è ben dietro E' auto bianca auto bianca Che timing di merda Andami son mosso Porco tuo Andami son mosso Era già dietro comunque era già dietro Quelli hanno overkill probabilmente che ne è midda a cecchinare quello eh Infatti non mi ha mai cambiato Non lo voglio challengeare zio Ok vado di no Quindi niente vuoi flincare Sì andiamo 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 Entra la macchina bruciata Vai vieni 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 Ti mi riposto Siamo agli scoccioli Entra il van bianco Contatto Oh hai detto contatto leo Allora è loading 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 Grito Holda 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 Sì ma abbiamo il back Preso preso Guarda quando si pusha da mid Ok sto così allora Sto guardando il mid sempre Dai figlio ti trovo Guarda quando corriamo 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 Veloce leo eh Veloce 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 Corri 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 La plantata versi là eh E' dentro Bravo leo bravo bravo Big big huge Bravo lui che ha fatto questa finta Che sono veramente forti comunque Stanno ringando 100% cioè Sono intelligenti Sti cazzi Sti cazzi Sti cazzi Sti cazzi Vuoi andare in là? D'ignoranza Vuoi rimanere in vita? Sì 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 Andiamo in là Io faccio finta Ok Ok Faccio finta Spigliato la bomba che io corro verso la veloce Abbiamo la bomba Non sono zio salgugina mi campero lì Finchia l'ha plantata male Mi sono in uno spot La bomba la tengo io volendo Se riesci a vedere il mid C'ho il mid ma non vedo sotto di me chiaramente Mi ha preso? Dai non la vedi da quel side Stava andando e prendo sulla bomba Buo 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 Ancora è entrato Non è morto zio non è morto porco Peccato perché col cecchino termico mi ha visto Altrimenti era vinto strand Cioè rosariati tra la bomba perfettamente Corro Faccio quella cosa lì Leo Cioè corro al tank Attento Usano il cecchino mid No prima non ho visto nessuno Sì mid 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 Con il cecchino Sì mi ha visto l'altra nata in B Preso l'altra nata in B Forse top drag Top antichi No niente Passiamo da A No no se tieni lì abbiamo controllo la mappa No no se tieni lì abbiamo controllo la mappa Siamo agli scoccioli Guarda come l'ha plantata Comunque non l'ho visto tornare indietro Ho fatto un long shot a quello che non ha senso Dobbiamo vincere questo attacco zio Dobbiamo vincere questo attacco Guardo il back io che dici Oppure secondo me puoi venire anche con me Proviamo anche a far splantare non lo so Vuoi provare? Al cecchino però quel tipo Non lo so Si pensa di essere chissà chi ma non lo è Vedo la bomba a piazza Ti dico io quando farlo ok Tu guarda il posto e guarda il back Si aspetta? Aspetta qua dai aspetta qua Becca 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 Dov'è dov'è? Era water tower per l'altro Era lì sicuro? Prima l'avevo visto lì Grazie no Non lo so Leo Puoi impariggiare Bene che te l'hai visto in questi attimi Ok mid 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 Stanno andando in assa No vengono in B Era a red card Corri io vengo subito camion bianco Vai anche da posto Leo Facciamo la città Metto qua Eh ok è ambulante Ho preso col cecchino Non è morto Ma ma come cazzo fa? Ma come cazzo fa? Ma di no va di no va di no Ok patogine manida ducco sono bello che c'è un vivo perché non ho non ciò che sopra casa con la casa centrale l'avevo io sto solo guardando l'ambulanza guardate il cross in teoria uno l'abbiamo chiuso qua ma come faccio Leo? dove sei tu sei in B? si ma non sto guardando niente perché sono troppo messo male che metto cosa vuoi fare? il mid è tutto aperto ho che provi a baitare il flank altrimenti mi vado io in B ma se muoio muoio non possiamo farli plantare in B Leo prendiamo il round flank 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 e bust ok è andato dentro loading forse granaio granaio sono posto sono posto hai chiamato? camion bianco l'ho ferito poco camion bianco feritissimo bravo 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 splanta abbiamo vinto questa difesa l'attacco questo attacco Leo come abbiamo vinto è vero questo attacco che cazzo dico andiamo a e però io devo stare top drag cioè prendete la bomba io guardo quel cecchino se lo vedono in fondo altrimenti l'ho visto? piazza Zeo subito ok niente blu tar do che di un corner di dente si riesce niente niente guardami se guardi il back ok uno è top gina me lo devo andare da qua e là fai in modo che non mi rientrano da dietro un shotissimo al flank torna mid torna mid l'ultimo arriva mid Leo bravo 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 bravissimo bravissimo bravo 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 huge 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 round abbiamo in cesta difesa abbiamo in cesta difesa ok ok io guardo il cross di A col termico ok non ho sbagliato class sto correndo sto correndo sto correndo sto correndo sto correndo grazie stanno suonando in B niente give up o Zeo give up non mi fido cioè è troppo ancora nei run riesci a biterla davanti e ti guardo davanti e indietro ho dato primo errore madornale vedo il nemico davanti a me e invece di affacciarmi per bene e ucciderlo decido di sparare in wallbang era un metro da me insomma cioè pensavo che sarebbe stato facilissimo ucciderlo sparando attraverso quel telone ma così non è non lo colpisco nemmeno una volta sparando in wallbang il nemico mi vede si gira e mi ammazza con un colpo dopo aver assorbito ben due colpi l'errore è stato quindi quello di sparare per la fretta attraverso il muro invece di prenderlo con calma e poi di smirare leggermente una volta che si è riaffacciato però lì è stato un po' il panico per aver fatto una cazzata ecco è feritissimo è feritissimo dietro il telone blu no zio non è pu... no no facciamo sta difesa va c'è sta attacco devo andare andiamo in B e se vuoi adesso bagga lo spawn bagga lo spawn bagga lo spawn ok 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 spero che quello si metta sotto quel buco bravo avanza per prendere kill bravo Leo avanza al mitador guardate Leo no zio sono a fianco ai mid ed ecco qui il secondo errore che ci ha portato ufficialmente alla sconfitta avevo predetto tutto sapevo che questa posizione avrebbe funzionato e infatti a un certo punto un nemico mi passa davanti lui non mi vede minimamente sta scivolando non mi ha nemmeno guardato però io ho paura ho paura che mi sfuggo ho paura di perdere questa kill fondamentale per vincere questa partita ogni kill a sto punto è importantissima e quindi gli sparo lo ferisco mi affaccio per finirlo gli mancava ormai un colpo ma il nemico si è nascosto nel muro pochi secondi il tempo di affacciarmi per finirlo e vengo già ucciso dal suo compagno che era esattamente dietro le sue spalle morale della favola avrei dovuto aspettare qualche secondo per farlo andare via per accertarmi appunto che non ci fosse il suo compagno là vicino ma non l'ho fatto e quindi abbiamo perso tutti e due tutti e due l'altro guarda che kill mi fa Leo guarda che kill mi ha fatto da peco che mi arrivava di qua mi ho primato danno a fianco comunque mi hanno tradato subito cioè non ho fatto nemmeno a sparare che mi hanno acceso subito un altro è una cosa del genere le ho flinchiamo in due flinchiamo in due dai da? si non tirare stunne niente non ci facciamo localizzare vado dentro l'america eh aspetta un po' che mi sto cambiando classe vai ma solo anti-stump perché te lo so venire qui no una quarta del flank ok una quarta del flank da di là non ci facciamo bene non ci facciamo bene va bene ok 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 andiamo da di qua occhio la macchina cioè se abitiamo corri 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 ho chiamato contatto vision all'ho vicino quella R veloce 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 è tutta colpa di quel gunfit che io avevo vinto ce l'avevo vinto quel gunfit e te lo giuro io ho sparato perfettamente non ho veramente parole te lo giuro ciao 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 ciao